Divani e Divani Outlet. La qualità del marchio Natuzzi a prezzi mai visti. Sconti fino al 70% su divani, tappeti e complementi provenienti da esposizioni, fiere, shooting fotografici e allestimenti. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento con arrivi sempre nuovi. Divani e Divani Outlet. Siamo a Voghera, via Piacenza, presso lo Shopping Park Voghera Est.